Giuseppe Rizzo, il Pescara deve rischettare la sconfitta di Castellamare di Stabbia contro un Trapani che tra le squadre che giocano un buon calcio. Sì, è un'ottima squadra, è una delle squadre più in forma del campionato e speriamo di fare una battaglia, perché ci aspetta una battaglia contro una squadra molto importante. È sbagliato dire che la sconfitta di Castellamare di Stabbia può essere salutare sotto alcuni punti di vista? Sì, non aveva fatto un'ottima partita, però quella partita di là si deve chiudere prima, però adesso quella partita la mettiamo accanto, non ci pensiamo più e pensiamo al sabato che è molto importante. Ecco, mister Marino si è assunto le sue responsabilità in conferenza stampa, come si rialza la testa dopo questa sconfitta? No, dobbiamo lavorare più forti prima negli allenamenti e stare concentrati in partita e non mollare niente, perché sabato è una battaglia. A Trapani il Pescara disputò un'ottima partita, forse una delle migliori, però si perse, cosa ricordate di quella gara? Niente, abbiamo fatto una grandissima partita, una delle più belle che abbiamo fatto in Serie B, è andata male. Speriamo che sabato non vada più come è andata a Trapani. Occhi puntati non solo su Mancosi? Sì, sì, ma tutto è Trapani, non è solo Mancosi, tutto è Trapani è un'ottima squadra, ma noi non pensiamo solo a noi stessi. Quindi volete tornare alla vittoria e basta pensare al mercato e roba vada? No, no, speriamo, se chi si chiude nel mercato siamo nel 30, nel 31 chiude, no? Speriamo, pensiamo solo alla partita noi, che è più importante.